Le casse sono ormai al verde e non ci sono neanche i soldi per pagare le tredicesime. Se i soci non provvederanno a mettere mano al portafogli, a giorni si aprirà la strada dell'insolvenza. In allarme i dipendenti che ieri durante la riunione del CDA hanno chiesto chiarimenti sul futuro oggi quanto mai incerto. Allo stato attuale nessuno è in grado di proporre soluzioni e nessuno riesce a tirare il classico coniglio dal cilindro magico. Il bilancio del 2012 presenta una perdita pari ad oltre 3 milioni di euro. L'approvazione definitiva spetta all'assemblea dei soci che il presidente Patroni Griffi ha convocato il 16 dicembre. Ma in quella sede il presidente della provincia Schittulli preannuncia battaglia. Ha chiesto di poter verificare in modo analitico tutte le spese fatte attraverso deleghe dai presidenti che hanno gestito l'ente e che avevano un'autonomia di spesa fino a 150 mila euro senza che questa dovesse passare al vaglio del consiglio di amministrazione. Schittulli al riguardo non esclude sulla base della verifica di intraprendere azioni di responsabilità nei confronti dell'ex presidente Gianfranco Viesti al quale i revisori dei conti avevano già contestato alcune circostanze e alcune spese ingiustificate di importo rilevante. La fiera è piena di debiti circa 18 milioni di euro pur essendo stato approvato il regolamento per la privatizzazione in realtà non è stato ancora raggiunto un accordo tra i soci fondatori che comunque dovranno accollarsi dei debiti e che in caso di fallimento risponderanno con il loro patrimonio. Tornando ai dipendenti se le tredicesime sarà possibile pagarle non c'è copertura per la mensilità di dicembre e il 2014 si prospetta più buio del solito.